tutti debbano avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, quindi il commerciante, l'artigiano bolognese che paga quelle tasse che paga, deve pagare le stesse tasse che pagano Amazon e le grandi cooperative rosse, perché altrimenti non c'è concorrenza leale possibile, se uno paga 70 e uno paga di meno, c'è il professor, siamo circondati ragazzi, mi arrendo, letta da una parte e proprio dall'altra, noi siamo persone per bene, salutiamo il professor e abbiamo l'ambizione di convincerlo, no ragazzi, facciamo, fa caldo, stanno giocando Germania e Inghilterra, dai almeno un sorriso ci è permesso, però noi a differenza di qualcuno a sinistra non abbiamo nemici